5 stelle di Maio stamani a Carrara nel pomeriggio all'isola d'Elba. Giornata a Toscana per Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, l'esponente del Movimento 5 Stelle. In mattinata ha visitato a Marina di Carrara la fiera dell'ospitalità e della ristorazione. Nel pomeriggio tappa a Portoferraio per parlare di ambiente e sanità. Da Carrara Roberto Vigiani. Il turismo è una delle realtà su cui investire con eccellenze che nel nostro paese ci sono e con le tecnologie. Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, si presenta così alla 37esima fiera dell'ospitalità e della ristorazione a complesso fieristico di Marina di Carrara. Noi abbiamo commissionato uno studio in questi anni che ci dice che nel 2025 la metà dei lavori che conosciamo sparirà o si trasformerà. Dobbiamo fare investimenti seri sulle nuove tecnologie unite ai beni culturali, al turismo e allo sviluppo del territorio. Un mondo che deve crescere sempre di più e che di certo non può essere massacrato dal livello di tassazione che abbiamo, di burocrazia che abbiamo. Un breve giro tra gli stand da parte dell'esponente del Movimento 5 Stelle per conoscere da vicino gli espositori e soprattutto i prodotti che ancora rappresentano una delle eccellenze non solo del nostro territorio. Da queste parti il turismo significa anche regole e le regole chiare e soprattutto che non mettono in ginocchio il settore da tempo le chiedono i balneari riguardo alla direttiva Bolkestein. Il nostro obiettivo è garantire la legalità. Io credo che un paese lo possa fare prima di tutto con le proprie leggi senza aspettare l'Europa. Le nostre spiagge dobbiamo valorizzarle sempre di più e fare in modo che rimangano in mani italiane.